Ciao a tutti, l'uomo narcisista a letto. In questo video voglio spiegarti un po' quali sono le caratteristiche dell'uomo narcisista a letto. Prima di affrontare il tema però iscriviti al canale attivando la campanella così riceverai le notifiche dei nuovi video. Seguimi su Instagram e su TikTok, seguimi sul mio nuovissimo canale Esoterismo e Spiritualità con Massimo Tramasco. Ti ricordo di notare che sul canale ti puoi abbonare scegliendo tra diversi livelli di abbonamento, abbonamento live per partecipare alle live, abbonamento base con lezioni mirate, abbonamento top con lezioni mirate e videoregistrazione del seminario del vivo, abbonamento master consulting con in più una consulenza telefonica. E veniamo al tema, l'uomo narcisista a letto. Allora, quali sono le caratteristiche e come si comporta diciamo l'uomo narcisista a letto? Allora, beh, ha delle caratteristiche fondamentali. Intanto, come dire, nel momento in cui ti rendi conto che hai a che fare con un narcisista devi tenere presente che devi toglierlo dai maroni fondamentalmente, perché il narcisista comunque non riesce a amare e vive l'intimità, vive la sessualità in modo particolare. Allora, il narcisista, come dicevamo, non vive l'amore, per cui le sue non sono relazioni d'amore, ma cerca di fare, diciamo, di avere delle relazioni di dominio, delle relazioni di controllo. Quindi questa è una delle caratteristiche fondamentali. Cioè, il narcisista vede la sessualità non come, neanche tanto come un atto edonistico, anche, ma soprattutto come la possibilità di controllare, diciamo, la propria partner in qualche modo. E tende a vivere la sessualità in maniera egoistica, cercando di, però, gratificare se stesso. Quindi può avere anche, tra virgolette, delle performance da un punto di vista tecnico elevate, perché questo non ha la funzione di dare piacere, ma la funzione di esaltare il proprio ego, di sentirsi maschio. E quindi tu capisci che, diciamo, che fare con un narcisista, anche a letto, quando ti rendi conto che i suoi rapporti sono privi di passionalità e sono privi di intimità. La sua attenzione è basata, diciamo, sulle performance, ma non finalizzata a darti piacere. Cioè il tuo piacere non sarà qualcosa che ha la funzione, diciamo, di gratificarti, ma la funzione di gratificare se stesso. Cioè gratificare quanto sono bravo, quanto riesco a controllare questa persona. Questo è il vero piacere. Quindi il narcisista cerca di sfruttarti sia da un punto di vista fisico quanto emotivo. Quindi quando noti che i rapporti sono centrati sulla performance, centrati sulle prestazioni, ma sono privi di intimità, beh, tieni presente che questo è, diciamo, una caratteristica fondamentale. Anche qua guardare, ad esempio, nove settimane e mezzo ti dà degli spunti di riflessione interessanti. Questa caratteristica, diciamo, si manifesta durante tutto l'arco della relazione. Il narcisista vive il sesso con indifferenza e freddezza. E queste potremmo dire che sono le caratteristiche. Inoltre, è sempre alla ricerca di approvazione. Vuole essere approvato, vuole essere ammirato per le sue doti di amatore. Questo significa che, se gli si rivolge una critica, lui reagisce in malo modo. Vede la sessualità soltanto come una forma prestazionale, diciamo, dove le sue doti devono emergere. E non ha nulla, diciamo, di intimo, di creare un'unione anche intima con quella persona. Nello stesso tempo, diciamo, talvolta gode nel sottomettere o nel denigrare l'altra persona, indurla magari a fare delle cose anche umilianti, che possono essere anche lesive della dignità di questa persona. Perché nel momento in cui una persona fa questo, tra l'altro, si coinvolgerà ancora di più, no? Perché pensa, se io per lui ho fatto questo, significa che sono innamorata. Se io per lui sono, diciamo, una persona che ama, allora devo assolutamente, come dire, coinvolgermi. Devo assolutamente far innamorare. Questo è un fatto fondamentale, no? Che devi tenere presente. Perché se tu non tieni presente questo, renditi conto che le cose non sono fatte con amore. Quando una persona cerca di sottometterti, di denigrarti, non lo fa mai per amore, fondamentalmente. Ad esempio, se ti rifiuterai di fare certe cose, cercherai subito di denigrarti, cercherai subito di squalificarti, cercherai subito di, come dire, colpirti in qualche modo. L'atto sessuale è solo un modo per soddisfare i suoi bisogni. E non ha nessun interesse per te. Ecco, un'altra cosa che caratterizza il narcisista, l'uomo narcisista, è che durante il rapporto, finito il rapporto sessuale, resta completamente freddo, completamente indifferente. Vorrebbe che tu sparissi perché non gliene frega più niente di te. Ma questo, diciamo, un po' di calo, c'è per tutti gli uomini, però un uomo che comunque vive la passione, dopo cerca un abbraccio, cerca un'intimità, cerca un bacio, cerca le coccole, ad esempio. Invece il narcisista torna a un'indifferenza totale, un'indifferenza totale e una freddezza totale. Ecco, questa è un'altra caratteristica che ti fa capire che hai a che fare con un narcisista. Il narcisista perverso poi è ancora peggio perché il narcisista perverso tenta di denigrarti in tutti i modi. Il narcisista maligno che può manifestare anche durante la sessualità aggressività, violenza, senso di superiorità. Quindi magari anche indurti a usare strumenti, indurti a usare oggetti, proprio con l'obiettivo anche di farti del male fondamentalmente. Perché il narcisista perverso ha come obiettivo quello di, o un narcisista maligno, di far del male, di colpire, di ferire. Ecco, queste sono tutte caratteristiche, diciamo, che ti fanno capire che hai a che fare con un narcisista. E nel momento in cui ti rendi conto che c'è questa situazione, beh, l'unica cosa da fare è allontanarti. Non ci sono altre possibilità. Se tu cerchi di capirlo, di provare ad entrare in empatia, vivrai delle brutte situazioni, umilianti e che non ti daranno nessun appagamento fondamentalmente. Bene, se questo video ti è piaciuto, iscriviti al canale YouTube, attivando la campanella, così riceverai la notifica dei nuovi video. Ti ricordo che sul canale ti puoi abbonare. Abbonarsi è facile, basta andare nella home page, tastina abbonati, vicino al tasto iscriviti. E ti ricordo di iscriverti anche al mio canale, nuovissimo canale YouTube, Esoterismo e spiritualità con Massimo Terramasco. Ovviamente seguimi anche sulla pagina Instagram, Massimo Terramasco, e sulla pagina TikTok. E per questo video è tutto, ti do appuntamento al prossimo. Ciao!